Ci racconti un po' com'è che sei arrivato al Verona, da quant'è che ne parlate, se c'era stato qualcosa già a gennaio e come ti presenti insomma. Guarda, io ho fatto questa scelta di venire a Verona anche perché è una bella piazza, a me mi è piaciuto tanto quando mi hanno fatto questa occasione di venire a Verona, a gennaio abbiamo fatto qualche comunicazione però io avevo ancora un vincolo con l'altra società però ho fatto un po' come io, volevo stare tranquillo, stare in campo, giocare bene, ho sentito anche la mia famiglia e mi dicevo che ero contento e ora ho fatto la scelta di venire a Verona anche perché in campionato che ho fatto l'anno scorso è arrivato, se è una bella società, per quello ho fatto questa scelta di venire qua e darlo la mano alla Verona in questo campionato. Che cosa ti aspetti da questa avventura a Verona? Cioè forse di far vedere proprio tutto quello che Nenè ancora non ha fatto vedere nel campionato italiano? Guarda, io da cinque anni con l'altra società ho stato un po' infortunato, qualche partita, a qualche momento, io adesso sono cento per cento, voglio fare sempre bene, è una cosa che è importantissima, in campo non maccherà mai il mio impegno, dedicazione, può essere che qualche partita ci gini un po' male però procuro fare sempre meglio, anche allenamento fare sempre quello perché in partita non sbagliare, io quest'anno mi auguro che farò benissimo. Di te si ricorda soprattutto quel gol fantastico che hai fatto contro la Juventus, no? Un gol meraviglioso, è stata quella la tua rete più bella che hai fatto in Italia? Sì, è un bello gol, però ti dico la verità, l'unico gol che faccio per me è bello, anche perché è il gol che dà la mano alla squadra, anche per noi attaccanti dobbiamo fare il gol. Quello è stato un gol bellissimo, però l'unico che faccio per me è molto molto bello e molto importante. Il fatto che qui a Verona ci sia Luca Toni che l'anno scorso ha fatto 20 gol ti dà ulteriore carica e che ruolo pensi di rivestire all'interno di questa rosa e di questa squadra? Guarda, lo so, lo conosco Luca Toni e vedo giocare, è un bravo giocatore. Io sono venuto a Verona a darlo la mano, non sono un giocatore in più, ci sono anche altri giocatori che sono importantissimi nella squadra. Il ruolo è di decidere il mister, se devo fare il secondo di Luca Toni, se devo fare un secondo di attaccanti. Io sono a disposizione, posso fare quello che vuole il mister e darlo la mano alle squadre. Puoi cambiare anche il ruolo? Tu sei una prima punta ma puoi fare anche altri ruoli? Guarda, qualche partita l'altra società che giocava prima ha fatto qualche partita nei tre quartisti e abbiamo fatto bene, abbiamo vinto 3 a 1. Io sono a disposizione, se vedo che posso fare questo ruolo, dico al mister, parliamo e vediamo che cosa possiamo fare, non sono un problema. Verona è stata la tua prima scelta, ci confermi questa cosa? Sì, c'era prima, è una bella piazza, io ho qualche cosa già visto su internet, anche quando abbiamo giocato contro. Ti dirò la verità, da gennaio abbiamo sentito un po' e da adesso, da questi periodi, è l'unica società che è arrivata a me, l'ha fatta un'offerta e mi è piaciuto tantissimo. Mi ho pensato due volte a firmare un contratto con Verona. Senti, ieri quando sei entrato in campo per l'allenamento, per salutare Mandorlini, c'è stato un boato, i tifosi ti hanno accolto con un grande applauso, è una piazza calda Verona. Ti senti pronto, non è, per questa nuova avventura? Guarda, io sono sempre pronto a un nuovo un nuovo desafio. Io sto lottando il mister, anche i tifosi, a me mi piace così, perché loro lo sa, quello che possiamo fare in campo. Siamo fortissimi come squadra e bisogna dentro di campo, dimostrare quello che possiamo fare e portare la felicità a tutti questi tifosi. Che numero di maglia vorresti? Guarda, stavo parlando anche prima, secondo me io prenderò, se tutto va bene anche per la società, un 99. Motivazioni? Dico perché a me, prima aveva il numero 18, non è che mi piaccia tanto come numero 9, ha fatto la 9 più 9 e siamo 18. E ora, come sono attaccanti, facciamo questo. Grazie. Hai detto che ti hanno colpito al primo colpo, cioè, quando si è presentato il Verona, hai detto sì subito, perché ti hanno voluto fortemente. Mi dici anche che impressione hai avuto proprio della società, adesso hai parlato della squadra, ma proprio della società a Verona? Guarda, a me, come società, quello che ha fatto e visto qua, quando sono arrivato, sono una bella società, sono bene organizzato, sono arrivato, sono fatto tutto quello che io avevo bisogno. A me, per cui l'ho fatta anche questa scelta di venire a Verona, perché loro sono una bella società. Avevi anche sentito qualcuno dei brasiliani che giocano qui, perché si trovano bene a Verona? Ti hanno dato qualche suggerimento? No, io ti dico la verità, non ho sentito nessuno. Io sono arrivato, ho salutato tutti quelli brasiliani, anche compagno di squadra adesso, però, come città, mia moglie è già stato qua, io ho due figli, è andato a Parco, mi dice che era una bella città, e ora non ho pensato due volte per firmare con Verona. Meglio da primo o da secondo attaccante? Meglio da unica punta o con un attacco a due punte? Considero che chiaramente c'è Tone. Guarda, io ho giocato di tutte e due forma, la società con Caleri. Io preferirei giocare di prima punta, però io sono a disposizione, posso dare la mano dove vuoi che gioco, non c'è un problema. L'importante è che la squadra vince, e siamo contenti tutti i compagni, tutte le squadre. Prima del tuo arrivo, è successa una vicenda qua a Verona, perché stava per arrivare Paoligno. nel volo aereo ha cambiato idea e ha deciso di andare in Qatar. È una scelta che tu faresti, quella di andartene dall'Italia a 28 anni come ha fatto lui, per andare a giocare in un campionato che non è molto competitivo, però dove pagano molto bene. È una scelta che tu faresti questa? Guarda, dipende. Io sono contento di essere in Italia. Come campionato, a me mi piace di più. Ogni volta tu vai in un posto dove magari non ci piace, prendi i soldi, però non sei contento. Io preferirei stare in un posto dove posso giocare, posso fare bene, con la famiglia stare tranquilla, e vivere in pace. I soldi ce la fa più avanti, non lo so. Questa scelta io non ce la farei. E l'altra cosa che volevo chiederti, è una curiosità. Ti chiami Anderson, Miguel da Silva, detto Nenè. Perché Nenè? Questa è una storia lunga, perché la mia nonna, come io sono di famiglia povera, lei è andata in scuola, c'era tanta difficoltà in parlare il mio nome, Anderson. Io ho due fratelli più grandi, io sono più piccolo di casa, e da noi quando è più piccolo diciamo Nenè. Per quello è rimasto, avevo due anni, fino adesso, anche adesso, se tu vai dove abito a San Paolo, nessuno mi conosce come Anderson, sempre Nenè. Ora, preferirei rimanere così. Volevo chiederti una curiosità, tu hai giocato con Agostini, vi siete parlati in questo ritiro, ti ha parlato un po' della piazza. Guarda, io sono arrivato ieri, non ho avuto tanto tempo di parlare con il suo cosiddetto, però è un bravo giocatore, ha giocato con me, un po' della piazza abbiamo parlato, a me mi è piaciuto tanto, anche sono arrivato, tutti i compagni mi hanno accogliato, mi hanno fatto l'accogliere benissimo, sono tutti i miei compagni. Io, ora ce l'ho un tempo, sono sicuro che parlerò di questa piazza ancora. Ti chiedo questo, visto che hai parlato delle tue origini, della tua infanzia, tanti giocatori, soprattutto sudamericani, hanno una storia alle spalle, no? Ci vuoi raccontare in sintesi quella che è stata la tua storia, come sei diventato calciatore, come sei cresciuto, magari con le difficoltà che si possono incontrare in tante grandi città, come è stato magari per te? Guarda, io giocare ai palloni ho iniziato tardi, a 18 anni, anche perché, come diceva prima, la mia famiglia è povera, io con 12 anni sono uscito da casa a lavorare, fino a 17 anni. A 17 anni mi hanno mandato in via, io ho avuto l'opportunità di fare questo lavoro, un allenamento con amici, ho fatto un amichevolo con una squadra grande, abbiamo fatto anche bene, abbiamo pareggiato e mi ha fatto un invito di andare lì e fare questa vita. Io ho pensato due volte e sono andato e oggi arrivare a un campionato come italiano per me ha fatto la vittoria più grande della mia vita. Che lavoro facevi? Giusto per essere un po' curioso. Non so come dire prima, perché da noi c'è quello che guida il Puma, io facevo quello che prendeva il biglietto, capito? Invece è fatto da quello, da 12 a 17 anni, perché io volevo una cosa, perché mio papà è andato via da casa e aveva due anni. Io avevo solo la mia mamma e i miei due fratelli più grandi. Se voleva qualcosa, voleva comprare, io vado a lavorare, compro quello che voglio io, non chiedo alla mia mamma. Per quello ho fatto questa scelta. è andato. Io vado a lavorare, mi piaceva... Grazie a tutti.